La CGL non ha nulla da nascondere sul sistema pensionistico e noi rivendichiamo il fatto che se un nostro funzionario ha una retribuzione maggiore di quella che aveva sul luogo di lavoro, noi paghiamo i contributi e non lo paghiamo in nero. Non abbiamo nulla da nasconderci, ma proprio per questo, siccome non abbiamo nulla da nasconderci, sappiamo anche che dentro il sistema pensionistico delle ingiustizie ci sono e ci sono dei divari tra le pensioni che vengono maturate dai lavoratori e le pensioni che per esempio derivano da tante altre parti. Noi siamo pronti a discutere di tutto questo e di come si ricostruisce una solidarietà del sistema.